La parola pietismo è una parola che odio, la sensazione delle persone che ti guardano pietismo è una sensazione che odio, quando le persone percepiscono in qualche modo che tu hai voglia di comunicare quella cosa, però non riesci, quindi percependo loro la sofferenza interna che tu hai, in qualche modo iniziano a guardarti con poverina. Ciao a tutti, sono... Michelangelo o... Scusami... Ciao a tutti, sono... Michelangelo, ho 15 anni, sono di Sesto San Giovanni e sono qui per arrivare a un buon livello di comunicazione. In che modo? Spaccandomi il culo, sputando sangue quotidianamente. Michelangelo, ho 15 anni, sono di Sesto San Giovanni e sono fiero di essere qui. beh, un po' di non-QUA- Faith enough. Chi rincavo Gian во Giuccio, 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 Giuccio... Giuseppe Qua 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 Qualatino... Sono Giuseppe Quarattino, ho 17 anni, sono di Altamura. Ilfurtar, teimi, ottel, kurti, séki, komin aftur og allt að þín að samtontar eitthvað. Grazie a tutti. Grazie a tutti.